Torniamo all'argomento di questa puntata perché insomma questa sera abbiamo un ospite d'eccezione che abbiamo cercato da parecchio tempo e abbiamo avuto poco tempo un po' di mesi fa Andrea Conti che ci ha raccontato un po' di questo argomento. Insomma abbiamo invece ospitato questa sera un attivista del Movimento 5 Stelle molto molto attivista devo dire e sempre presente e però un grandissimo intenditore di questi argomenti quindi stasera ne parleremo con lui di impatto ambientale, carpotecnia e nutrizione MDA e con noi Max Gaetano. Ciao Max! Ciao a tutti, come mi sentite? Bene? Eh sì, ti sentiamo leggermente in ritardo, prova ancora? Prova, eccomi qua, sono qui a Milano con il telefono di casa quindi spero che più di così non possiamo fare no? Ok, ok. E intanto come stai Max? Bene, bene, vedo che hai preso lo stile di Cruciani che quando chiama gli ospiti che gli stanno simpatici mi chiede sempre come stai, come stai? Ma io sempre chiedo come stai a prescindere da Cruciani. Ah, sempre? Certo, assolutamente sì. E insomma intanto volevo aprire una piccola parentesi prima di inoltrarci in quello che è l'argomento di questa puntata. E allora, so che tu hai fatto il carabiniere e oltretutto non solo hai fatto il carabiniere ma in realtà poi per volere del destino insomma hai anche effettuato servizio presso proprio queste società private di vigilanza. Se me lo confermi? Sì, sì. Il caso vuole che prima ho fatto il militare di leva nei carabinieri al Tribunale di Milano. Il caso ha voluto poi che anche dopo come guardia e particolare giurata che sono poi le guardie armate ho fatto anche lì il Tribunale di Milano. Quindi ho visto sia prima che dopo e so perché è successo quello che è successo e se vuoi magari affrontiamo l'argomento anche dal punto di vista sia politico, delle dichiarazioni dei politici, sia delle responsabilità vere e proprie. Che poi in ultima analisi sono quelle dei giudici e in seconda analisi, cioè in primo luogo quelle dei giudici e in secondo luogo quelle degli avvocati. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ti dico la mia esperienza? Certo, certo, infatti. Allora, niente, il Tribunale di Milano prima era vigilato dai carabinieri, è uno sparuto gruppo di carabinieri i quali dovevano anche fare la cucina, la cucina per tutte le forze dell'ordine. Siccome la cucina era anche abbastanza buona quella dei carabinieri, non so il motivo, venivano anche i dipendenti del Tribunale e quindi una grossa parte dei carabinieri era destinata alla cucina. Quei pochissimi carabinieri che rimanevano in servizio era diviso in due parti, una sezione scorte che però fanno tutto il loro lavoro per i fatti loro e la sezione tribunale che dovevano fare la vigilanza sia all'ingresso che interna. Ora, se ti dico che erano pochissimi, il Tribunale è enorme. Ci posso credere che erano pochissimi. Si crede sulla parola, guarda. Eh, ma tu pensa, poi divisi per due, una parte all'accesso a ingressi e l'altra parte a girare per il Tribunale per eventuali emergenze. Certo, ma tu hai fatto proprio il servizio anche proprio al Tribunale di Milano? Sì, 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 sì. Quindi, insomma, diciamo un'esperienza assolutamente diretta. Direttissima, sì, sì. Tra l'altro perché io posso dire che la responsabilità è della maggioranza dei giudici? Perché nonostante sia un reato penale non qualificarsi all'ingresso di un obiettivo sensibile, adesso non ricordo il numero del codice penale, i magistrati hanno i loro accessi nelle porte carraie con le quali entrano in macchina o a piedi o potrebbero anche entrare dagli accessi degli avvocati, entrano da dove gli pare. Poi ci sono alcuni accessi dove, anche per l'ubicazione proprio fisica delle loro uffici, non so se avete presente il corso di Porta Vittoria, ha due accessi carrabili, da uno entrano i giudicanti e dall'altro entrano gli inquirenti. E ho fatto pure la guardia, diciamo, in quegli tipo di accessi lì. E ora uno sente un obiettivo sensibile, avrà tutto l'interesse che il controllore, che controlla gli accessi, sia il massimamente efficiente e lui sia massimamente collaborativo per controllare che questo accada. Ti dico che i magistrati, quando entravano, si stupivano che qualcuno gli chiedesse loro un documento di riconoscimento. Cioè, pretendevano di essere conosciuti a vista. Siccome c'è una rotazione, soprattutto quando c'era la leva, non è che tu arrivavi lì e sapevi tutti. Cioè, potevi conoscere Borrelli e Di Pietro all'epoca e basta. E Amarapina Colombo e Davigo, il pool manipolite. Quindi tu l'hai fatto nel periodo proprio di manipolite? Guarda, vabbè, aspetta. No, beh, in realtà l'ho fatto un po' dopo, nel 99, però c'erano ancora in auge. Non so se c'era ancora Di Pietro, però gli altri c'erano tutti. Che succedeva? Che soprattutto i giudicanti, cioè quelli che dovrebbero essere ancora più ligi al dovere, si infastidivano, mostravano un atteggiamento di come non mi conosci, no, non ti conosco, ti devi far riconoscere, no? Certo. Quindi, essendo magari io di leva, ero un po' più preciso nel mio lavoro, perché non è che dovevo fare carriera. Ma quel tipo di atteggiamento lì che avevano magari con me, avuto con un militare di carriera, li avrebbe inquietati non poco, nel senso che una cattiva parola di un giudice ti distrugge la carriera. Certo. Quindi io immagino, poi ho anche visto, come venivano fatti entrare. Venivano fatti entrare così, con un pseudo riconoscimento a vista e loro stessi non verificavano che il carabiniere deve essere veramente riconosciuti o meno. Certo. Quindi probabilmente anche il tipo di atteggiamento da parte dei carabinieri all'interno che devono controllare gli accessi è un po' chiaramente impaurito da quello che potrebbe succedere nel caso uno dovesse fermare una persona e mettersi lì a perquisirlo. Esatto. Ma questo è normale, umano e non potrebbero fare altrimenti perché un piccolo screzio con un giudice che perlora nella scala gerarchica è il top, il giudice, sopra anche gli ufficiali, vuol dire la carriera finita o comunque la carriera malmessa. Quindi non potrebbero fare altrimenti, questo sia chiaro. Il fatto che il giudice però abbia un comportamento da, io sono di vivi di conoscere come se fossi Presidente della Repubblica o per diritto divino, abbassa il livello di sicurezza. Quindi il primo responsabile dell'abbassamento di sicurezza sono loro. Certo. Almeno la maggioranza. Il famoso lei non sa chi sono io. Sì, sì, è pazzesco, pazzesco. Perché poi se li vedevi arrivare con la scorta, riconoscevi la scorta, è ovvio che non c'era bisogno di un riconoscimento diretto perché si qualificava la scorta. Certo, certo. Ma quando entravano da soli dovevano per forza farsi riconoscere. Questo dall'ingresso, diciamo, loro riservato. Ma gli ingressi riservati sia loro che gli avvocati succedevano cose tipo non so se è presente i Bruce Brothers quando uno dei due fratelli si qualifica con un pacchetto di sigarette. Sì, sì, me la ricordo. Non sono scene reali queste, ma il motivo è molto semplice. Quello che sto dicendo, tra l'altro, lo sanno tutti quelli che lavorano nella vota del tribunale, tutti, anche i muri, cioè sia i magistrati che gli avvocati che i dipendenti del tribunale che le forze dell'ordine. Certo. Tutti, nessuno escluso. Succedeva all'epoca con i carabinieri che, essendo così pochi all'ingresso e entrando centinaia di persone al minuto, perché non hai idea. All'epoca sì, vabbè, c'era la coda per i nero detector e poi però è notevole l'ingresso di avvocati al tribunale di Milano. Si tratta di conto che sono 5.000 avvocati e sono a Milano. Quindi era fisicamente impossibile controllare. Proprio un carabiniere ha un ingresso e non poteva controllarli. Quindi che facevano? Questi entravano di fretta, poi loro con la scusa che sono di fretta di avvocati cercano di fare pressione psicologica perché dice mi fai perdere la causa, mi fai arrivare in ritardo. Quindi succedeva che il prassi era che a quel tempo il testino degli avvocati era un cartoncino piegato che al quinto anno c'era la foto quindi dovevi aprirlo ma piegandolo si vedeva solo il bordo blu. il 90% degli avvocati entravano col cartoncino piegato col bordo blu cioè bastava che tu facessi vedere un cartoncino blu per entrare. Ricordo solo un avvocato che entrava con il testino spiegato e mi puntava in faccia proprio la sua foto. Io pensavo cazzo questo è uno che ci tiene la sua sicurezza perché vuol dire che non vuole che gli altri entrino così che potrebbero essere chiunque ma parliamo di appunto fino anni 90. Che è successo? siccome i carabinieri fossero troppo pochi hanno pensato bene il comune perché credo che la gestione c'era il comune insieme al ministero di grazia e giustizia tutta la parte esterna in realtà appartiene al comune come gestione visto che il comune è il proprietario dei muri fondamentalmente. Sì ha pensato bene che cosa? Di affidarlo alle guardie giurate che potevano essere recludate in un numero maggiore peccato che però ti costano il doppio non è che la guardia giurata ha il suo stipendio e basta la guardia giurata deve fare guadinare anche l'agenzia di vigilanza e quindi siamo entrati in questo vortice in cui si paga il doppio delle spese per avere un servizio che poi alla fine è uguale perché il passaggio di consegne fra carabinieri e guardia giurate come pensi che sia gli dicono la verità stai attento a non rompere le palle i giudici stai attento a non rompere le palle neanche troppo agli avvocati perché qualche avvocato è molto potente quindi cosa succede? Sempre entravano con questo tesserino chiuso se non che hanno cambiato i tesserini hanno fatto diventare come la patente quindi a questo punto non è più chiuso e quindi anche chi vuole sentare rifletta c'è la foto però come la patente è una fotina se proprio tu non lo fermi la guardi e anche se sono raddoppiati gli agenti di sicurezza con le parole giurate rispetto ai carabinieri c'è sempre centinaia di avvocati che entrano al minuto nelle loro di punta e non è non è affatto facile questo tipo di controllo soprattutto con quella sudditanza psicologica creata dai magistrati e dagli avvocati quindi queste cose le sanno tutti e la cosa singolare o meno singolare è che questi politici da Mattarella Alfano a Maroni facciano queste dichiarazioni deliranti com'è possibile che possa accadere una cosa del genere quando tutti lo sanno che è facilissimo che accada l'unico infatti politico che non ha fatto dichiarazioni in tal senso deliranti è guarda caso un avvocato del Foro di Milano cioè il sindaco Pesapia che è ben guardato da fare dichiarazioni che dicessero ah come è possibile lui sa benissimo che è possibile fino a ieri faceva l'avvocato lì dentro certo quindi conosce tutti i meccanismi sicuramente certo allora ricordiamo che in realtà l'appalto privato insomma che riguarda la sicurezza del tribunale non solo del tribunale di Milano ma in realtà da quello che si è saputo e hanno vinto anche l'appalto per la sicurezza all'Expo stiamo parlando della società All System che è una società fondata nel 1988 ed è una delle più grandi aziende di sicurezza privata con circa 100 milioni di fatturato all'anno insomma in realtà si chiamava Cittadini dell'Ordine e poi non mi sembra sia stata acquisita da un fondo ed è diventata All System certo ed è sempre stata insieme a Livri quella storicamente più potente nel nord Italia o forse in Italia Insomma diciamo che non si è accaparrato noccioline perché anche per l'Expo insomma ha ricevuto un appalto da oltre 20 milioni di euro insomma quindi Beh mi hai detto niente Ecco esatto Però io penso che all'Expo se non avranno la suddittanza psicologica di qualche giudice saranno più precisi nelle procedure Questo lo speriamo tutti insomma ci stanno illustrando quest'Expo come veramente una macchina assolutamente implacabile dal punto di vista della sicurezza abbiamo visto qualche giorno fa un gruppo di ragazzini è entrato indossando i giubbotti catarifrangenti e mischiandosi insieme agli operai è riuscito ad entrare nell'Expo portando un pacco un vero e proprio pacco e chiaramente vuoto e andandolo a sistemare in uno dei padiglioni quindi in realtà ecco vediamo come questa meravigliosa macchina della sicurezza è assolutamente bucatissima se uno vuole riguardo all'Expo poi ci agganciamo anche al tema carpotecnia alimentazione perché la punta di diamante dell'Expo sarà il future food il padiglione chiamato future food dove ci vorranno illustrare quale sarà la nutrizione del futuro qual è l'avanguardia della nutrizione del futuro e quando te lo dirò spero che non ci sia nessuno che stia mangiando perché come dire è un po' aberrante quello che i nutrizionisti o la maggioranza dei nutrizionisti crede crede che noi crede che noi dobbiamo andare verso un percorso che io definisco un po' aberrante se vuoi lo affrontiamo subito assolutamente sì tra parentesi ricordiamoci che i due sponsor principali dell'Expo fondamentalmente sono McDonald's da una parte e Coca Cola dall'altra quindi diciamo che ecco visto così che bisognerebbe parlare di cibo sostenibile e di cibo salutare insomma parliamo di due sponsor importanti che però fondamentalmente sappiamo tutti cosa si racchiude all'interno degli hamburger che insomma si mangiano da McDonald's fondamentalmente anche se so che dovrebbe introdurre in Italia anche la scelta vegana McDonald's che è già introdotto in India certo tra l'altro McDonald's è la terza multinazionale del mondo per fatturato nell'alimentazione a questo punto peccato che mancano la Nestlé che è la prima al mondo l'Unilever che è la seconda esatto che tanto valeva che venissero anche loro e che magari scoprissero che il future food il padiglione del future food non c'entra molto con quello che è il cibo del futuro perché se a Nestlé e Unilever scopriranno quello che io sto per dire cioè la carpotecnia del carpo si vuol dire frutto dal greco nel futuro sostituirà la zootecnia e questa è una cosa inequivocabile tanto che la matura agisce secondo il principio della minima energia e l'attività predatoria è un'attività alla massima energia quindi predare le carni ma come anche le piante e i semi procura una massima energia digestiva mentre l'attività non predatoria cioè quella invece in simbiosi con le piante le piante da frutto gli alberi o le piante negli orti frutti da orto la cosiddetta frutta ortaggio fa sì che ci sia un'attività digestiva a minima energia quindi il futuro è quello la natura è piuttosto implacabile il punto è che non sappiamo in quanto tempo la natura andrà in quella direzione possiamo velocizzarla con la carpotecnia cioè tutte le ricette cosiddette onnariane dopo spiegheriamo perché onnariano cosa vuol dire non onnivoro perché non esiste nessun animale onnivoro onnariano 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 vuol dire che mangia tutto onnivoro vuol dire che ha 18 apparati digerenti cioè onnivoro dovrebbe essere il termine voro vuol dire adatto a il termine voro negli studi di biologia di botanica e di zoologia vuol dire adatto a ora uno se dovesse essere adatto a tutto dovrebbe avere un apparato digerente fruttivoro folivoro cioè per le foglie semivoro granivoro erbivoro carnivoro e chi più ne ha più ne metta ma tutte le immagini di un animale con sei apparati digerenti cioè non mi sembrerebbe come dire un'evoluzione della specie chiaro chiaro non esiste rispondi ritoglimi questa curiosità insomma qual è il cibo del futuro previsto dall'ex spazio perché siamo ancora in orario di cena e non lo so comunque la cosa è la verità e va detta allora siccome hanno questa mania delle proteine cioè i due grandi miti che adesso andremo a conflutare sono le proteine e che andiamo a tante proteine e a glucosio il loro mito principale è le proteine e siccome la zootecnia fa sì che sono 5 miliardi di ettere sul pianeta terra destinati all'uomo 3 miliardi e mezzo sono destinati al pascolo delle povere mucche che vengono macellate e un miliardo e mezzo ai campi di grano che poi due terzi di questi sono stati per andare a mangiare alle mucche che è un animale erbivo che gli danno un seme e poi si lamentano che diventa pazza rimane uno 0,03 dove noi viviamo uno sopra l'altro in queste città che è lo spazio di abitabilità fondamentalmente è che dovrebbe essere 5 miliardi di ettere e noi invece siamo in 0,3 succede che aumentando il consumo di carne aumenta questi 3 miliardi e mezzo dove stanno le mucche e che succede che lo sano e nutrizionistico è insostenibile la cosa è impossibile quindi dove sono andate a cercare le proteine e dopo vedremo perché tra l'altro è una ricerca non scientifica perché noi abbiamo bisogno di amminoacidi che gli amminoacidi sono nella frutta perché il corpo quando gli arriva una proteina la deve scindere cioè noi abbiamo l'acido nello stomaco perché deve prescindere questo cazzo di proteine posso usare anche in un linguaggio un po' più diretto il pubblico è un po' più tranquillo siamo tutti adulti un linguaggio quasi da zanzara possiamo? ma sì senza esagerare perché poi c'è qualcuno senza esagerare dai però no però sì allora per trovare queste proteine cosa vogliono questa fascia di nutrizionistica si considera la vorguardia ha detto chiaramente che dobbiamo mangiare gli scarafaggi e gli insetti perché sono ricchi di proteine e io stavo dicendo poco fa che in realtà il corpo bisogna di amminoacidi con gli amminoacidi costruisce le proteine no? perché cos'è una proteina? è una catena di amminoacidi se entra una proteina nel corpo a parte che l'eccesso di proteine e per eccesso intendo tutto quello che è oltre alla frutta è veriterio perché va a rompere le palle ai reni numero uno in più ogni proteina in più che entra fa sì che le cellule abbiano una sintesi proteica cioè si apre e si chiude il DNA e la chiusura è con microerroi di chiusura e questa non è una cosa simpatica infatti le diete tutte a base di proteine come quella in Francia la dieta Ducane speriamo che non ci ammazzi i francesi questo Ducane fa sì che andranno tutti all'ospedale con problemi di reni quelli che seguono rigorosamente questa dieta Ducane è stato pure sospeso all'ordine dei medici chiaro comunque secondo l'avanguardia dei nutrizionisti la maggioranza dei nutrizionisti il future food il cibo del futuro che ci sarà anche nel padiglione dell'expo sono gli scarafaggi e gli insetti e altri insetti quindi dimmi tu se questa è una direzione come dire simpatica eh certo certo insomma va bene ragazzi quindi preparatevi perché insomma il futuro ci porterà o vi porterà fondamentalmente perché anch'io insomma ho abbracciato questo tipo di dieta nonostante insomma le polemiche di molti nel senso che sai molti sono sempre legati al concetto fondamentalmente di dieta mediterranea che prevede insomma insomma tutto quindi in realtà quello che volevo che tu mi spiegassi a prescindere da tutta la parte scientifica che poi magari affronteremo e fondamentalmente quali sono le differenze fondamentali di questi due tipi di alimentazione cioè il mangiare tutto seguendo una dieta mediterranea e mangiare invece nutrirsi di frutta che poi vorrei che tu definissi esatto perché viene intesa come frutta insomma l'ananas la banana la ecco quella che noi conosciamo come frutta però esiste la frutta di qualsiasi tipo insomma senti chiudo solo sulle proteine perché se i nutrizionisti studiassero un po' di più saprebbero che due zucchine e un avocado fanno le proteine di una bistecca quindi se hanno veramente sta mania delle proteine addirittura le zucchine essiccate hanno quantità di proteine esorbitanti se hanno veramente sta mania la potrebbero soddisfare con la zucchina che è un frutto ortaggio e quindi entriamo in cosa è la frutta la frutta si divide in 5-6 categorie la categoria principale è il frutto specie specifico che è la mela rossa e poi spiegheremo il perché poi vi è la frutta dolce quella degli alberi tipo la mela la pera la banana la frutta ortaggio che viene erroneamente chiamata verdura ma se dentro ha un seme come può essere una verdura una cosa che è un seme sarà un frutto no? perché il frutto che cos'è? tutto quello che nasce da un fiore e si ingrossa ingrossa la parte che poi diventerà ridibile cioè mangiabile e avremo il frutto il frutto il pomodoro non è un frutto? la melanzana la zucchina la zucca l'oliva l'avocado anche poi abbiamo la frutta grassa quindi l'oliva l'avocado e l'olio denocciolato cioè quell'olio che viene spremuto con le olive denocciolate perché dovete sapere che tutto l'olio che viene venduto se non c'è scritto denocciolato è una spremitura di semi spremono la polpa col seme ora dopo andremo a spiegare il perché il seme non è idoneo alla specie umana spiegheremo quante tossine ha e perché le ha perché la pianta difende il suo figlio i primogli sono esseri viventi comunque tornando a quanti sono i tipi di frutta poi abbiamo abbiamo detto il frutto speciale specifico la mela frutta dolce frutta ortaggio frutta grassa e poi abbiamo la frutta cancerogena quella che purtroppo l'associazione nazionale quella per la ricerca sul cancro si presenta con le buste piene di questo frutto che non solo è il frutto ma è il cibo più cancerogeno sul pianeta terra stiamo parlando delle arance delle arance le arance e tutto il resto della frutta acida cioè di tutti gli agrumi l'ananas e il kiwi sono iper cancerogene se noi pensiamo che la carne più o meno tutti sanno che è un po' cancerogena anche se poi fanno finta di non saperlo l'arancia è 31 volte più cancerogene della carne perché? perché a 31 volte più putrescina e cadaverina e tutte le altre cosiddette poliammine che sono acceleratori del metabolismo guardate che tutta questa potrescina già dal nome da pute o puzzare non è una cosa simpatica ma veniamo al punto le poliammine sono gli acceleratori del metabolismo quindi se hai un tumorino piccolino piccolino che non ti rompe le palle con le arance soprattutto prese quando la mattina che arrivi dal digiuno notturno qualsiasi cosa tu fai la mattina è amplificata per cento per mille se fai una cosa giusta come mettere la mela che poi diremo perché la mela è cos'è la media alla mattina è amplificato il beneficio per cento per mille se metti la cosa peggiore che puoi mettere in bocca cioè l'arancia dopo il digiuno notturno della mattina è amplificato per mille tutti gli affetti quindi anche quello cancerocinetico e nessuno può mettere in dubbio che abbia 31 volte più più con le mine della carne tant'è vero che i nutrizionisti un po' più diciamo conosciuti a livello anche mediatico come Berlino la De Petris sono cose che dicono certo e non è che siano cose così nascoste se voi fate una ricerca su google e mettete frutta cancerogena poliammine arance frutta poliammine vedrete che il dato dell'arancia del pompelmo poi a scalare tutti gli altri frutti acidi è esorbitante quindi questi l'elenco di questi frutti acidi cancerogeni in realtà per ordine di pericolosità chiamiamola così tra virgolette parte dalle arance arance pompelmo stanno proprio al top ok subito dopo subito dopo non me la ricordo la classifica giata però abbiamo gli agrumi poi l'ananas e il kiwi che vanno anche analizzati dal punto di vista della quantità stratosferica di acido citrico che è quel famoso E330 che voi vedete in tutte le scatolette ora se c'è qualche donna all'ascolto che pulisce il bagno con l'acido citrico sa benissimo che è una sostanza molto corrosiva tra l'altro si chiama acido i chimici lo sanno ma se ci ragionate un attimo qual è il mestiere dell'acido piacere faccio l'acido qual è il suo mestiere? qual è il suo mestiere? corrodere ma corrodere è una cosa pesante non è una cosa simpatica prodotto in fisica vuol dire rubare elettroni quindi tutto quello che ruba elettroni corrode diciamo crea dei danni non piuttosto significativi purtroppo queste cose vengono sottovalutate perché diciamo la pura verità queste cose che sto dicendo le sanno in tutte le università solo che le sanno a compartimenti stagni cosa vuol dire? che l'assenza di approccio multidisciplinare fa sì che la facoltà che quelli non ci sono più neanche le facoltà siamo a dipartimenti quelli del dipartimento di chimica cioè la vecchia facoltà di chimica non sanno le ricerche di quelli della facoltà o del dipartimento di biologia che alla sua volta non ha collegamenti col dipartimento di medicina che alla sua volta non ha collegamenti col dipartimento di botanica o di agraria perché se no lo saprebbero che le piante sono molto tossiche in particolare per difendere se stesse cioè si chiamano metaboliti secondari killer le fitotossine che qualsiasi botanico qualsiasi lavorato in agraria sa sono tantissime nella pianta stessa che usa a difesa dei predatori perché la pianta è un essere intelligente che ha i neuroni dimostrato pure questo sempre tra l'altro tutte queste dimostrazioni avvengono spesso in Italia come anche dopo parleremo di neuroni specchio sono scoperti a Parma comunque tutte queste dimostrazioni esistono a compartimenti stagni ma le piante sono esseri intelligenti i neuroni ce li hanno negli apici radicali come già aveva ipotizzato Darwin dopo andiamo anche sullo storico dato che tu dicevi che prima nella presentazione è la notte dei tempi che diciamo viene mangiata frutta mentre mangiare carne è stata una cosa avvenuta un pochino dopo poi magari spieghiamo tutto l'iter tra l'altro nessun carnivoro mangia la carne nessun carnivoro è così idiota da mangiare la carne i carnivori mangiano l'interiora solamente i carnivori sfigati perché in belli cioè inermi cioè perché non possono competere con un leone tipo lo sciacallo la iena o l'avvoltoio mangiano la cosiddetta carne cioè i muscoli perché non possono fare abbottere con un leone tra l'altro lo sciacallo in particolare che ha scarsissima capacità predatoria vive poco e niente perché poi andiamo a vedere quanto vivono lo sciacallo il carnivoro mediamente vive 10-15 anni lo sciacallo vive molto di meno perché ci bandosi dei muscoli che nessun carnivoro gli viene in mente a meno che non sia stato di necessità di mangiare e non pigliate come esempio gli animali domestici che se gli buttate il muscolo quello se lo divora perché innanzitutto bisogna vedere come si comporterebbe in natura non in natura cioè in casa o comunque svezzato con cibo tossico anche per lui perché quello che conta poi è lo svezzamento che guarda caso i cibi che noi ci sembrano ci fanno impazzire spesso sono guerri dell'infanzia o addirittura dello svezzamento quindi tra l'altro in natura non hanno malattie gli animali gli animali domestici che cominciano ad avere le stesse patologie dell'uomo senti Max allora intanto vabbè chiaramente su questi argomenti si innescano dei meccanismi dal punto di vista proprio di chi ci ascolta insomma che molto spesso sono abbastanza dubbiosi su questo tipo di alimentazione ci scrive proprio Cristina che fa la farmacista scrive io però per trattare questi argomenti mi affiderei ad esperti allora ti assicuro che Max è assolutamente un espertissimo di questo argomento ecco diciamo che non ha tutti i torti perché io comunque vengo da giurisprudenza e alla fine sono un cultore della materia e non mi sono laureato però questo mi ha salvato perché non laureandomi non ho avuto quel parocchi di cui stavo parlando prima perché la nostra amica farmacista deve sapere che la scienza è scienza solo se è multidisciplinare la monodisciplinarità non è scienza non può essere scienza perché se tu non conosci la chimica come fai a fare il nutrizionista perché chi sono i nutrizionisti allora diciamo chi sono sono laureati ad agraria a medicina e a biologia dopodiché si specializzano i medici innanzitutto forse lo sei già te l'ho già detto indovina quante ore di nutrizione fanno i medici poche poche mi ricordo da una tua conferenza che insomma fanno 6 ore di nutrizione quindi cosa fai chiami un medico che ha fatto 6 ore di nutrizione che non sa chi è Armando Delia che poi andremo a spiegare che non sa chi è George Cuvier che è il fondatore dell'anatomia comparata quindi in questo caso il titolo cosa gli serve le sue 6 ore di nutrizione cosa ci fa totò direbbe che ci si pulisce qualcosa però vabbè andiamo a vedere quel 2-3% di medici che poi si specializza in nutrizione certo perché alla fine il medico di base e tutti gli altri medici specializzati che ne so in neofrologia o nei polmoni nel cuore in cardiologia si fidano di chi? dei nutrizionisti perché tipo un nefrologo sa tutto sui reni cioè chi può dire tutto sui reni un cardiologo ti darà tutto sul cuore quindi sapendo loro di essere a quel livello lì di conoscenza presuppongono immaginano che i nutrizionisti sappiano tutto di nutrizione quindi si fidano quindi in realtà i medici non hanno colpa perché si fidano di chi pensa si sia specializzato come loro andiamo a vedere la specializzazione di questi nutrizionisti innanzitutto i nutrizionisti che cosa studiano? per esempio materia fondamentale per capire un attimo l'anatomia e la fisiologia della specie umana è anatomia comparata dai sistemi digerenti e fisiologia comparata dai sistemi digerenti tu pensi che ci sia qualche nutrizionista che studia questa materia? non lo so questo non lo so perché non conosco il piano di studi non è prevista non è prevista nel piano di studi addirittura fino agli anni 80 c'erano i piani di studi di medici l'hanno tolta quindi che un esperto un titolato cosa ci viene a raccontare? non conosce l'anatomia comprata la fisiologia comprata? certo cosa si può venire a raccontare? tra l'altro l'OMS a sua volta detta detta legge ma detta legge su che cosa? detta legge su come mangiare ma lei si fida dei nutrizionisti perché non è che l'OMS è un organo dell'ONU organo dell'ONU che avrà una consulenza di nutrizionisti quindi si fida di nutrizionisti fa come i medici quindi a loro volta i medici nutrizionisti si fida dell'OMS ed è un cane che si moda la coda perché se l'OMS detta le informazioni in base a quello che dicono i nutrizionisti che però non hanno un rapporto scientifico e dopo spiegheremo perché e poi addirittura gli apposso a sentire i medici o i nutrizionisti stessi che dicono ma lo dice l'OMS e te credo di detto tu all'OMS certo tu o la tua categoria quindi diciamo che è un po' un circolo vizioso in realtà esatto non viene mai interrotto senti vogliamo raccontare però Max che tipo di studi ci sono alle spalle di questo tipo di alimentazione e chi ha iniziato a studiare questa cosa da quanti anni viene portata avanti e insomma chi sono gli artefici di questa esatto di questa teoria allora in realtà già i latini già i latini dicevano forse fammo dicevano una roba tipo Dante forse fammo per essere per mangiare frutta ma adesso non mi ricordo la traduzione in latino e dopodiché viene Cuvier ed Elia però prima di arrivare a questo sempre a compartimenti stagni a paleantropologia la paleantropologia moderna sa benissimo che l'uomo uno non è l'astrolopiteco perché addirittura hanno sbagliato la linea evolutiva devi sapere che il nostro pato digerente comunque noi siamo simili alle scime antropomorfe antropomorfe vuol dire simili all'uomo che sono quattro orango gibbone scimpanze e gorilla e gorilla e scimpanze nascono in Africa e orango gibbone in Asia e tutti e quattro hanno delle linee evolutive che però in realtà sono quasi tutte abortite cioè tipo quelli in Asia quella del gibbone mi pare che non esiste la linea evolutiva quella dell'orango esistita mai abortita ce l'hanno trovato dei resti ma non c'è nessuna discendenza questo perché ti sto dicendo queste cose perché quando nasce l'uomo dobbiamo capirci quando nasce l'uomo per capire che cosa mangiava l'uomo l'uomo nasce quando assume posizione eretta quando assume posizione eretta 7 milioni di anni fa dove nella Great Reef Valley in Kenya dove sono stati trovati i primi resti di specie umana cioè il Tugenensis cosiddetto Oralink Tugenensis dalle colline Tune in Kenya e quella è l'evoluzione di cosa? secondo te deriviamo dal gorilla? non lo so probabilmente non lo so questo è quello che pensano alcuni paleoantropologi pensano che l'austrolopiteco che chiaramente è discendito dal gorilla perché ha la stessa macella la dentatura macrodonte cioè i denti molto grossi pensano sia all'evoluzione dell'uomo in realtà l'austrolopiteco è l'evoluzione del gorilla che però anche quella è abortita guarda caso e la natura ha privilegiato l'evoluzione dello scimpanzé noi deriviamo dello scimpanzé in particolare dal bonobo che è più simile a noi cosa è successo? che l'uomo diventa eretto quindi scende dagli alberi assume postura eretta e il primo ritrovamento 6 milioni di anni fa del cosiddetto Tugenensis dopo di che 4 milioni di anni fa troviamo il Kenyantropo e 3 milioni di anni fa il Rudolfensis tutti anche guardando la dentatura di questi di questi reperti di questi ritrovamenti è una dentatura che indica chiaramente il mangiatore di frutta anche per le scalfiture dei denti perché si può risalire a quello che mangiavi da come il dente è usurato o scalfito che succede però e questo è il punto il punto che fa sì che non sia colpa di nessuno alla fine a parte forse l'assenza di multidisciplinarità dei nutrizionisti che un milione e otto di anni fa arriva alla grande glaciazione quindi l'uomo che fa? si trova in Kenya e va verso nord cercando da mangiare frutta e trova sempre più freddo sempre più freddo a quel punto si mette a mangiare quello che trova per terra e la vita media si abbassa fino a vent'anni fino a che si mette a mangiare solo carne solo carogne e carne e si abbassa a vent'anni mentre prima era indefinita cioè i ritrovamenti di prima di un milione e un milione e otto anni fa dicono l'Italia è indefinita e assenza di patologie le quali nascono un milione e otto di anni fa con la grande glaciazione e col cambio alimentare fino a che arriviamo ai tempi moderni che diecimila anni fa addirittura si inventano sto grano un grano che poi viene modificato in questi diecimila anni fino ad avere tutta questa bomba di glutine e quindi cosa ci vengono a dire che l'uomo mangiava la carne nelle caverne che quello è ieri praticamente ieri cioè non contano i milioni di anni che fino a sette milioni di anni fa chiaro infatti Cristina mi continua a scrivere che è la farmacista noi abbiamo enzimi anche per digerire la carne siamo stati predisposti anche per mangiare carne poi una persona può anche rifiutarsi di mangiare carne basta però che assuma anche proteine animali da altre fonti a parte che poi dopo spieghiamo bene che il corpo necessita aminoacidi non proteine ma gli enzimi veniamo alla fisiologia non viene assurata la fisiologia comparata innanzitutto l'uomo non ha l'enzima uricasi che è tipico dei carnivori in particolare e anche degli uccelli carnivori no aspetta no degli uccelli non mi ricordo no perché sono ricotelici perché loro espellono perché cosa gli serve questo enzima ai carnivori la carne è acidificante nel corpo e gli uccelli essendo ricotelici cioè mettendo urea mettendo acidi urici dalla pipì espellono così questa botta di acidi urici i carnivori in realtà devono avere questa grossa quantità di uricasi che permette loro di difendersi dall'acidificazione della carne tra l'altro rimbalzando sull'anatomia comparata i carnivori hanno un appato digerente cortissimo perché la carne fa male pure loro devono spellerla subito il nostro appato digerente è mediamente lungo non lungo quanto gli erbivori perché gli erbivori devono fare un casino per mangiare per ricavare energia che poi l'energia sono i carboidrati che poi spiegheremo il carboidrato vero è il fruttosio non è il glucosio comunque siccome questa erba che poi alla fine come mangiare carta ha questi legami di glucosio difficilissimi da scendere quindi l'erbivoro deve mangiare rimangiare a tre stomaci a due stomaci si deve rigomitare in bocca fa un casino e sta tutto il giorno infatti a mangiare questo per dire cosa che tra l'altro l'erbivoro ha l'enzima cellulasi per mangiare queste diciamo verdure foglie o quant'altro poi andiamo a vedere esattamente la fisiologia del carnivoro dell'erbivoro della specie umana la specie umana è quello che è il più bassissimo carico enzimatico di che cosa di proteasi che sono quelli per digerire le proteine infatti ne hanno di più i carnivori ovviamente nucleasi perché allora diciamo bene che cosa di cosa è fatto un cibo è fatto di nove elementi però spesso gli nutrizionisti ne sanno a malapena quattro cinque arrivano forse fino a sette a malapena allora uno l'acqua ovviamente che tra l'altro l'acqua che interessa a noi è quella organica ancora dentro la frutta e non l'acqua inorganica che beviamo nelle bottiglie comunque acqua poi quelli che conoscono più o meno tutti i carboidrati proteine grassi poi sali minerali vitamine e acidi nucleici che sono diciamo il nucleo della cellula e tra l'altro la frutta ne ha molto poche perché ha le cellule molto grosse mentre la carne ne ha tantissime per questo i carnivori hanno anche un altro enzima che si chiama nucleasi la carboidrasi serve per digerire i carboidrati e in prevalenza ce l'hanno i granivori come le galline che devono digerire queste botte di glucosio dal grano perché ricordiamoci che i cereali in particolare il grano e tutti gli altri cereali hanno 70% in più di zuccheri della frutta però poi quando arrivano i medici a dirti che se hai il diabete devi mangiare meno frutta o non mangiare frutta però non ti dicono niente su pane, pasta e pizza che sono bombe allucinanti di glucosio perché il glucosio che è entrato in eccesso è entrato ingannando la cellula perché deve entrare con l'ormone con l'insulina se no la cellula non lo farebbe entrare in questa quantità se questo inganno entra e fa i danni che fa il settimo e l'ottavo elemento sono i fitochimici che dalla parola fito vuol dire che c'erano solo le piante e poi i fitocomplessi che è sempre la parola fito c'erano solo le piante quindi questo cosa dimostra questi nove elementi non li abbiamo sicuramente nelle piante o nell'alimentazione tipo vegetale c'è tutti e nove è ovvio che quella invece l'alimentazione di derivazione animale non c'ha i fitochimici e non c'ha i fitocomplessi dato che la parola fito vuol dire vegetale certo quindi dicevamo il carico no 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 vai vai no il carico enzymatico abbiamo detto che noi siamo all'aspetto e con il più basso carico enzymatico di nucleasi proteasi carboidrasi adesso non so se mi sfugge quelli principali sono questi perché tanto venete ad eliminare le vitamine non è che devi rigerirli poi l'altra componente che entra sono le fibre e quindi questo dimostra chiaramente verso cosa dobbiamo andare tra l'altro la cosa principale che non sanno i nutrizionisti non la sanno ma neanche al massimo livello neanche a livello di docenti di nutrizione non è quelli che si insegnano i nutrizionisti ma neanche i capi delle scuole di perfezionamento lo sanno più o meno bene o se tu li fai interrogare non lo sanno cioè quante proteine ha latte materno? pochissime pochissime sappiamo che la carne è il 20% tra l'altro l'OMS mi fa le dice di mangiarne il 15% se non sbaglio la carne è il 20% quanto ha latte materno? avrà guarda l'avevo sentito ma aspetta tieni conto tieni conto che è la fase della crescita in cui la specie umana triplica i muscoli triplica le ossa quindi è la fase in cui più fa bisogno di proteine quindi qual è il risultato? il 2% di proteine ma questo è il colostro il primo latte poi scende subito un 9 un 8 un 7 un 6 arrivando fino a 0,7 e poi se l'allattamento continuasse chissà quanto diminuerebbe il fatto è che sono le proteine medie della frutta non è che è un caso noi siamo l'unica specie che va a mangiare cibo più proteico di quello del proprio latte tra l'altro i nutrizionisti proprio che abbiamo verificato non sanno che pensano che il latte di mucca sia meno proteico di quello umano e invece non so se è il 40% più proteico o poi ci portano studi perché poi per dimostrare che dobbiamo mangiare carne derivate animali ci portano degli studi cioè dicono dicono che ci sono degli studi ma nessun nutrizionista nessun medico li conosce esiste qualcosina degli anni 50 di sperimentazione sui topi ora a meno che tu non pensi di essere un topo io no mi dici che c'entra la fisiologia di un topo fisiologia vuol dire l'organismo interno c'è l'anatomia la parte esterna la fisiologia la parte interna ora a parte che neanche anatomicamente mi sembra che siamo molto simili a un topo ma fisiologicamente c'è un abisso certo assolutamente noi siamo vicini anatomicamente fisiologicamente alle scime antropomorfe che guarda caso in assenza cioè in abbondanza di frutta e in abbondanza di territorio perché ricordiamoci che il loro territorio è devastato e che quindi potrebbero trovarsi in carenza di frutta e quindi potrebbero mangiare qualcosa altro ma in abbondanza di frutta mangiano solo frutta tant'è che gli osservatori gli zoologi che stavano in Africa a osservare i comportamenti delle scigne si rompivano totalmente le palle che scrivevano e giorni e giorni e settimane che sono qui sotto questo albero perché sono alberi grossi come campi di calcio alberi enormi e le scime non si spostano finché non hanno finito di vendere tutti i semi tutti i frutti del medesimo albero e qui arriviamo alla simbiosi la simbiosi fra mammifero e albero simbiosi vuol dire crescere vuol dire crescere insieme cioè avere una stare insieme in maniera favorevole l'uno per l'altro vuol dire che la pianta fa il frutto e il frutto che cos'è contiene il figlio il seme e ha bisogno dell'animale e in questo caso l'uomo diciamo che l'uomo è un animale perché c'è gente che pensa che sia un minerale o un vegetale prendiamo regno animale che succede che la pianta ha bisogno di qualcuno che gli trasporti il seme lontano perché se il frutto cadesse sotto la pianta stessa uscirebbe i semi perché la pianta ruberebbe l'acqua e il sole ai suoi figlioli quindi cosa subentra subentra l'animale che si chiama dispersione giocora cioè è un tipo di dispersione del seme cioè portando il frutto lontano dalla pianta mangiando la parte di la polpa e o ingoiando quando i semi sono molto piccoli o gettando come nel caso della mina pochissimi arrivano a mangiarsi il torso perché è amaro giustamente perché dove stanno i figli la pianta ha fatto il torso l'amaro l'oggetti e quei figli di quella pianta possono hanno una chance di crescere col sole con l'acqua certo quindi ha bisogno di un vettore fondamentalmente esatto esatto ho aperto 3000 parentesi adesso aiutami a chiuderle senti allora no io la stronco la parentesi chiedendoti perché per quanto riguarda questi studi anzi intanto ricordiamo da quando sono partiti questi studi ah scusami perché la antropologia non abbiamo cosa succede che nel 1800 il fondatore dell'anatomia comparata George Cuvier chiudeva tutte le sue lezioni universitarie dicendo in base agli studi dell'anatomia comparata l'uomo l'animale frugivoro lo diceva in francese ovviamente adesso non mi ricordo bene come si dice tutte le lezioni le chiudeva così questo in base agli studi di Delia che Delia è stato il massimo divulgatore scientifico a livello nutrizionale e aveva nel suo ufficio la foto di Cuvier Delia che dice che Cuvier chiudeva tutte le sue lezioni dicendo questa frase e quindi passiamo dal 1805 circa 1800 da Cuvier passiamo agli anni 80 e 90 di Delia Delia è laureato in chimica da giovane e incontra dei colleghi osteriaci vegetariani e si mette a studiare l'alimentazione a causa di questo incontro al che si rende conto che le proprie conoscenze a livello chimico erano insufficienti e prendono laurea in scienze naturali prima cosa dicevamo può un nutrizionista parlarti di nutrizione se non conosce la chimica se non sa come funzionano le reazioni chimiche non può ma a sua volta può un nutrizionista parlarti se non conosce anche la fisica e non sa cosa succede a livello subatomico perché a malapena sanno che l'atomo è formato da elettrone protone e neutrone e quindi e a livello subatomico che succede cioè i fisici stessi non so se arrivano a sapere che ci scompone la forza più elementare è la la forza elettromagnetica e allora bisogna studiare tutto cioè come fa un medico allora che fa seo di nutrizione zero chimica base quasi zero biologia non so quanto faccia fisica non ne parliamo e allora di cosa stiamo parlando come si può pretendere di far parlare un titolato di queste cose quando nella sua carriera non è previsto lo studio di questi argomenti certo è chiaro senti per quale motivo la mela è frutto specie specifico perché a parte che i ritrovamenti nella Rift Valley fanno vedere che un uomo si è cresciuto con la mela e tra l'altro un fisico potrebbe spiegare che questa coevoluzione fa sì che il melo dia un ossigeno migliore di quanto lo possono dare altre altre piante per la specie umana perché tu sai noi che vendiamo anche ossigeno e quindi purtroppo però vivendo in città questo ossigeno è anche un po' viziato da queste da questi riscaldamenti in particolare che non è tanto le automobili ma i riscaldamenti e qua apro un'altra parentesi perché anche gli architetti purtroppo sono ancora all'epoca della pietra e dopo diciamo esattamente qual è l'epoca della pietra perché se tu devi fare una casa devi riscaldarla dato che il nostro ambiente specie specifico sono i tropici se tu sei fuori dei tropici dovrai riscaldarti e se ti inventa l'architetto ti inventa la casa a parallelepipedo tutta squadrata dove l'aria calda sarà solo nell'ultimo centimetro in alto e tutto il resto dovrai pompare il riscaldamento a manetta e facendo un inquinamento aberrante per che cosa per avere tutto l'aria calda in alto ma secondo voi gli glu come li riscaldano gli schimesi che forma la squadrata no ha una forma sferica difatti anche la NASA lo sa e tutte le costruzioni del futuro o tutte le loro ipotesi di costruzioni sono a forma sferica cioè la cupola geodetica si dice che tra l'altro è una struttura antisismica anti-uragano e anti-tutto ora con una struttura così tu puoi ricreare la foresta tropicale in Inghilterra che tra l'altro esiste con un riscaldamento piccolissimo c'è un'intera foresta tropicale in Inghilterra sotto dei 3-4 cupoloni giganteschi tornando però alla domanda ah sì comunque dicevo queste cose perché l'assenza di multidisciplinarità poi va a danno di tutte le discipline certo e l'epoca della pietra perché siamo all'epoca perché sono all'epoca della pietra perché sono ancora all'epoca in cui pensano che la terra è piatta ma neanche prima ancora tu devi pensare che la prima grande rivoluzione scientifica l'ha fatta Nassimandro Nassimandro crea delle scuole filosofiche tipo di quelli che parlavano di aria acqua terra e fuoco magari erano ancora un po' così agli esordi però Nassimandro arriva a dire che in un'epoca storica parliamo di 26 secoli fa in cui in tutto il mondo compresa la maggior parte del mondo diciamo l'India antica l'America antica l'Africa antica si pensava la Cina antica si pensava che la terra ci fosse il cielo sopra e la terra sotto ma per cielo sopra e terra sotto intendevano che sopra c'era il cielo sotto la terra che era piatta e si appoggiava su una tartaruga gigante e la quale la sua volta si appoggiava su un elefante questo era il livello scientifico di 20 secoli fa ed è lo stesso a livello scientifico della prevalenza dei nutrizionisti perché non sapere che la mela è frutto specie specifico e che va consumata e qui apriamo anche il capitolo della MDA soprattutto a colazione nella fase catabolica e in chiusura di giornata prima di andare a dormire per innescare sia per l'apertura di giornata che per la notte dove scatterà poi il digiuno notturno anche se sarebbe bene avere sempre una mela vicino al comodino e dare un morsettino magari quando ci si sveglia anche di notte magari per andare in bagno la mela è carica di acqua l'88% di acqua è carica di fruttosio quindi tutta l'altra frutta è carica di glucosio e qui dovremmo spiegare perché il fruttosio è la vera benzina della specie umana e non solo la specie umana ma di tutti gli animali perché noi andiamo ad ATP questi adenosine trifosfato escono dai mitocondri grazie a un processo che si chiama glicolisi e ciclo di Krebs certo tra l'altro collegandoci i limoni noi abbiamo bisogno di un po' di acido citrico a pochissimo lo 0,5 che c'è nella mela per il ciclo di Krebs ora se 0,6 scusa 5 se 5 è nella mela quanto c'è nell'arancia? spara eh non lo so spara spara non lo so non lo so non mi chiedere domande che vadano la gente dice beh se la mela 5 e l'arancia avranno 30 40 non lo so a 100 l'arancia ha 900 di acido citrico contro 5 della mela e il limone? spara spara e il limone e sarà di più fondamentalmente nell'arancia più o meno quindi sarà 1.500 6.000 il limone arriva a 6.000 contro la mela 5 quindi parliamo di cioè diciamo che l'acido contenuto nella mela è più che sufficiente per per la funzione che deve svolgere nel ciclo di Krebs esatto certo senti la domanda di manuela ogni tanto io ti stoppo se quando mi amico vai 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 in quali frutti si trovano gli aminoacidi? tutti 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 anche una singola ciliegia e sfatiamo il mito dei aminoacidi essenziali non essenziali perché anche una singola ciliegia ha tutti gli aminoacidi essenziali e non essenziali questo sempre per la compartimentazione stagna non lo sanno ma lo sanno magari che ne so boh qualcuno a biologia certo o ma tutti cioè tutti quindi noi andiamo aminoacidi e dove stanno nella frutta quando mangi una proteina cioè quando mangi prodotti derivati da animali o i semi i legumi che sono molto proteici e quindi fanno male pure quelli arrivi a ma fa sì che il corpo deve fare un lavoro triplo perché gli deve queste proteine scindere in aminoacidi e ne è un lavoro cioè gli ATP fanno sì che noi possiamo in questo momento siamo parlando al telefono o in radio grazie agli ATP tu cammini grazie agli ATP ogni singola cellula produce sull'ATP non è che la cellula del piede del dito riceve energia dalla cellula del ginocchio no ogni singola cellula ha mediamente centinaia e migliaia di mitocondri sai conto che abbiamo 50 100 miliardi di cellule sai conto che quando entra glucosio la cellula poi lo deve trasformare in fruttosio e poi poi inizia la glicolisi e il ciclo di Krebs questa trasformazione ti fa perdere due ATP per ogni trasformazione fai conto che la devi moltiplicare per 100 miliardi di cellule e poi devi moltiplicare il risultato per mille di mitocondri della cellula cioè fai conto una volta l'avevo fatto non mi ricordo bene se si dice bilione o trilione la domanda è molto più semplice tu da quanto tempo fai questo tipo di dieta di alimentazione perfetto in realtà io alterno fasi vegane a fasi fruttariane questo perché prima di intraprendere questo percorso ho detto vabbè vediamo chi ce l'ha fatta perché non è che è così facile passare in quel momento in quel momento ero manapena vegetariano quando ho affrontato questi argomenti fino a poi arrivare però l'approccio in quel momento non era scientifico era un po' così casareccio poi quando ho scoperto Delia ho cominciato ad avere un approccio scientifico perché Delia diciamo è la base di tutto Cuvier ti mette le basi anatomiche ma Delia ti mette le basi fisiologiche e va oltre tra parentesi mi sembra che anche Veronesi abbia appoggiato gran parte delle teorie di Delia giusto? diciamo la verità sì i giovedì culturali avvenivano a casa di Delia Delia aveva dedicato un'ala della propria appartamento a sede romana e laziale dell'AVI associazione vegetale italiana e mezza comunità scientifica di Roma è passata da giovedì culturali di Germano Delia tant'è vero lo stesso Veronesi fa un video su Youtube dove Veronesi dice ma Lorango secondo voi dove le piga queste proteine quello mangia solo vegetali ed è ha ragione Lorango ti prende però mangiando frutta e dopo lì arriviamo al fattore delle catecolamine dell'indolamine cioè di come anche a livello psichico a livello neuronale poi uno stia bene o stia male perché è vero che Lorango e non parliamo del gorilla che con un dito potrebbe prendere dieci culturisti dieci pugili i pesi massimi e alzarli tutti assieme e scaraventarli sono pacifici perché la frutta uno abbassa proprio così a livello anche intuitivo no? l'abbondanza di frutta non c'è competizione no? mentre i carnivori sono sempre competizione devono picchiarsi a vicenda tant'è che appunto lo sciacallo e quegli altri sono ben lontani dal leone certo e il fattore neurochimico cosa ci dice che noi abbiamo siamo fatti i neuroni hanno dei neurotrasmettitori principalmente di tre categorie cioè le catecolamine che sono quelli diciamo negativi che portano in cui eccesso porta a negatività tradotta in tristezza aggressività o arrabbiatura in questo tipo di situazioni negative comunque dalla depressione all'ostilità oltre alle categorie ci sono le indoramine che sono invece l'opposto quelli che ti portano a un eccesso di allegria di risate e poi c'è il terzo tipo di neurotrasmettitore che è quello perfetto che è l'acetilcolina il quale ti porta alla serenità che non hai eccessi né negativi né eccessi positivi nel senso che un'eccessiva euforia non è uguale alla serenità ma in realtà noi ce li abbiamo per un motivo ben preciso ne abbiamo un minimo di catecolamine di base dobbiamo averlo perché in una situazione di pericolo ti deve scattare l'adrenalina e ti devi difendere devi scappare magari devi fare qualcosa gli animali cosa fanno in situazioni di pericolo o si paralizzano facendo una finta morte e poi c'è un motivo tra l'altro perché il carnivoro non vede bene le cose ferme quindi o si paralizzano o scappano e gli scattano l'adrenalina tra l'altro ho dato una piccola parentesi su come la vista la vista del carnivoro è in bianco e nero e vede perfettamente le cose in movimento nitidissimamente e vede sfocate le cose ferme tant'è che i pigmei lo sanno e quando incontrano un leone magari fermandosi hanno qualche chance che il leone a meno che non senta la loro adrenalina certo non li veda il contrario noi cosa abbiamo una vista che vede perfettamente le cose fisse in particolare vede perfettamente il rosso sul verde guarda il caso la mela rossa sulle piante sulle foglie verdi e quindi e vede più sfocate le cose in movimento e vede sfocate le cose in movimento esattamente questo per dire cosa qual era l'ennesima parentesi che abbiamo aperto i voli pindarici incredibili Max non so perché io sono abituato in conferenza a dire tutto velocemente perché il tempo è sempre un po' di ranno infatti ti ho detto che non mi rendo conto infatti in realtà infatti non mi rendo conto che qua potrei andare giù tutto su situazioni e descrizioni assolutamente semplici cioè nel senso senza entrare troppo nel particolare dal punto di vista ah ecco chiudiamo solo sui neontrasmettitori è abbastanza semplice capire che quando sei incazzato quando sei ostile hai le catecolamine che stanno agendo per te c'è un eccesso di catecolamine quando invece sei eccessivamente che ti butti per cara da ridere o che ne so sei in una situazione particolarmente sembra ubriaco quella è l'eccesso di indolamina è euforica ma perché che succede che se non in una situazione di stress quotidiano in queste città pieni di asfalto che tra l'altro è una cosa completamente naturale aumentano le catecolamine in parte per lo stress ma soprattutto aumentano per quello che mangiamo se mangi cibo a specifico cioè non della tua specie il carico catecolaminico cioè il carico di questi neutrosmentitori negativi ti portano a depressione o a ostilità o alla rabbia e cresce enormemente quindi quando tu vedi gente che fa questi gesti tipo quello del tribunale quello che aveva un carico catecolaminico altissimo altissimo certo quindi siamo cosa succede noi siamo sempre alla ricerca dell'indolamine avendo queste catecolamine al top cerchiamo le catecolamine dappertutto quindi nelle droghe alcune droghe ti danno le indolamine alcune droghe ti danno le indolamine quindi siamo alla costante ricerca dell'indolamine ed è un cane che si morde la coda perché quello che hai mangiato ieri ti porta oggi ad essere catecolaminico e tu vai a cercare l'indolamine dove? magari nel grano nella pasta o in altri cibi che producono l'indolamine che però poi il giorno dopo ti ributtano in stato negativo senti ti posto una domanda da Manuela che scrive sono due anni che non mangio carne e mi hanno trovato la ferritina molto bassa quindi se io mangiassi molta frutta potrei rientrare nei valori? parliamo finalmente dell'MDA perché è la cosa che ho dovuto fare fin da subito però certo che cos'è MDA? allora esiste l'alimentazione MDA è un'alimentazione scientifica che può essere fruttariana vegetariana vegana addirittura onnariana perché non è che gli onnariani magari se non sono convinti o se dall'oggi a domani non ce la fanno è possibile impostare un'alimentazione scientifica anche per loro però con la consiglio può riuscire almeno dalle carni dal pesce e poi successivamente anche dagli articini succede che alcuni vegani o vegetariani non avendo impostazione scientifica poi hanno patologie magari peggio di alcuni onnariani che magari mangiano molta verdura e quindi si alcalinizzano perché alcuni vegetariani e vegani magari mangiano solo cibo acido tipo solo semi o solo frutta acida perché poi devi sapere che ci sono diverse correnti new age in ambito vegano e fruttariano che inneggiano alla frutta cancerogena cioè che per loro non lo è per loro dicono che addirittura è alcalinizzante questa le arance e il resto della frutta acida quindi se può succedere che un vegano e a un vegetriano a un fruttariano abbia questi problemi che dice la ragazza che ha scritto in chat quindi che succede succede che noi abbiamo tre fasi la fase catabolica che è quella dopo risveglio cioè catabolica vuol dire espulsione di tossine il corpo vuole spedere le tossine che è accumulato il giorno prima quindi non gli devi rompere le palle che succede quelli che fanno una colazione abbondante e rompono le palle perché quello il corpo dice io sto buttando cioè gli operai dentro il corpo che dicono sto buttando fuori i mattoni tossici e tu metti i mattoni tossici dentro e non riesco a fare questo lavoro qua cioè è un casino un scompiglio nei cosiddetti agenti che poi la maggior parte sono i globuli bianchi che cercano di inglobare e distruggere le tossine tant'è vero che soprattutto nei mangiatori di cibo molto cotto o comunque nei vegani che mangiano tanto cibo cotto ma non gli onariani la leucocistrosi digestiva è normale cioè nel senso per i medici è normale quando fanno l'analisi del sangue che ci siano tutta questa botta di globuli bianchi il globulo bianco è un soldatino che va in giro con la spada e con lo scudo se tu hai tanti soldatini in circolo vuol dire che sei in guerra perché in tempo di pace avrai le guardie che girano così per monitorare la situazione se sei in guerra vuol dire che c'è qualcosa che non quadra vuol dire che c'è dei virus che entrano col cibo questo la domanda aspetta il fatto che uno può star male col veganismo perché se non fai l'impostazione MDA cosa vuol dire mele rosse la mattina la M di mele a colazione la D è di frutta dolce ovviamente non quella cancerogena a pranzo tre tipi di frutta dolce in cui ci deve essere il melone intanto si trova sempre il melone giallo d'inverno e l'ottimo melone arancione d'estate che è una cucurbitacea e tra l'altro vedremo che nella cucurbitacea e nel sottortaggio sono altamente alcainizzanti perché il problema acidosi alcalosi è fondamentale per la salute umana tanto è vero che se pisciamo alcalino vuol dire che siamo bene se pisciamo 7,4 poi siamo al top ma urinare acido comincia a essere un problema soprattutto se urini spesso acido ma intanto è vero che i medici alla fine codificano quello che vedono tutti gli onariani e la maggior parte dei vegani urinano acido la mattina quindi per loro range è che devi urinare acido ma scusa eh ma come urinare acido cioè il mio corpo deve avere un acido che circola che tutti i biologi sanno se siete a compattimento di stagni che i liquidi interni del corpo devono essere l'alcalina 7,4 certo quindi abbiamo detto M, D, A ci si arriva per gradi la prima cosa è mettere una mela appena alzata una mela rossa a morsi e laddove ci sono gente molto intossicata che non riesce a mangiare dopo di giugno notturno la mela allora basterebbe cominciare con uno spicchio e coloro che hanno problemi di denti tipo le persone anziane allora potrebbero farsi un frullato sempre con la buccia però e quindi il passo A il passo base è mela a morsi appena alzati mela a morsi prima di andare a dormire così dai l'impronta fisiologica metti l'impronta del fruttosio per la giornata questo sarebbe quello del primo mattino e prima di andare a dormire per affrontare la fase notturna la seconda cosa da fare è sequenzializzare i pasti cioè fare i pasti in sequenza prima il cibo più digeribile e più nutriente per ultimo il cibo meno digeribile cioè non puoi mangiare prima la 500 e dopo la Ferrari perché la Ferrari scende e c'è l'effetto come si chiama? tappo no? fa l'effetto tappo certo quindi tutti quelli che mettono la frutta a fine pasto non hanno capito una mazza perché mettono la Ferrari a fine pasto quella incontra di tutto cioè incontra la carne che è il carro bestiame poi i latticini che può essere da topolino i semi che sono da 500 e l'incontra e si stoppa poi fermenta e dice ma però la frutta mi ha fatto fermare mi ha fatto problemi e certo se la piglie dopo dopo il pasto infatti guarda l'ideale mi scrive confermo urine acide ah beh già il fatto che lei conosca che esistono le cartine del PH per misurare le urine è già abbastanza deformata perché non tutti lo sanno per esempio i medici non lo sanno che esistono queste cartine per misurare la PP non sanno l'importanza e tra l'altro non va affatto una misurazione singola quando tu devi verificare le tue urine devi monitorare per giorni nel senso che non è che tu hai fatto una misurazione e dici sono alcalino in questo momento in quel momento sei alcalino ma devi verificare tutte le volte che mi in bagno l'ideale sarebbe mettersene in bagno e così vedi se c'è un verificare il trend non la singola migliorazione assolutamente senti Max non mi hai risposto da quanto allora tu alterni da periodo di fruttarismo totale di veganismo giusto ecco sì allora io ho fatto un primo periodo di fruttarismo mi pare intorno al 2011 di un mese poi successivamente uno di quattro mesi e mezzo e poi uno di dieci mesi il 100% alternati con periodi vegani però che succede che i periodi vegani erano sempre migliorativi se magari all'inizio era un veganismo fatto così alla buona il secondo veganismo è stato con le mele la mattina tipo 4-5 ore a mele e il terzo veganismo è stato poi aumentando il numero di ore a mele perché dovete sapere che più ore state a mele e più è andata a fruttosio quindi io poi sono arrivato a fare 8-9 ore a mele adesso attualmente sono in fase vegana sono 9-10 ore a mele e poi faccio la cena sequenziale cena sequenziale che tra l'altro per me è frutta e verdura perché poi io il mio cibo diciamo la mia droga fuori dalla frutta preferita e sono le insalate quindi nella mia fase vegana è prevalentemente frutta e verdura cioè verdura non la frutta ortaggio basta non solo frutta ortaggio però ritornando alla alla sequenza dovete sempre mettere quando fai la parte vegana tu mangi anche legumi e quindi tutto tutto quello che no tendenzialmente no uno perché sono proteici due non mi fanno impazzire l'unico legume che mangio è un frutto ed è il fagiolino consideriamo che il fagiolino il baccello è un frutto è l'unico frutto in cui si potrebbe masticare il seme perché il seme quando è maturo e non abbiamo fatto finito di dirlo prima che le piante si autocaricano di tossine ma il seme lo riempiono un milione di volte in più di tossine lo sanno tutti i botanici e tutti alla gravina tant'è vero che se gli chiedi l'elenco delle tossine gli dicono sono tomi alti più della divina commedia questo per dire che il baccello è un frutto il fagiolino è un frutto però è un frutto acerbo così come il cetriolo e come la zucchina quindi i loro semi non sono ancora protosemi non sono stati ancora caricati di quel milione di tossine quando dico un milione non sto dicendo un numero a caso certo prendo proprio un milione questo vuol dire che qualsiasi contadino o qualsiasi lobby butti sostanze chimiche sulla frutta non arriverà mai ma mai sarà sempre mille o un milione volte di meno di quello che mette la pianta nel seme cioè il suo figlio del resto se uno ha dei figli penso che una mamma lo possa capire ancora meglio ma cosa farebbe per difendere il suo figlio per difendere la vita di suo figlio farebbe di tutto di tutto ma inteso proprio ucciderebbe l'uccisore di suo figlio e la pianta così fa la pianta magari non riesce a uccidere il singolo assalitore il singolo predatore perché si chiama comunque predazione interspecifica anche la mucca che preda l'erba mangia l'erba è un essere vivente quello lo strappa si chiama predazione interspecifica la stessa pianta per difendere il figlio lo stracarica di tossine in modo tale che magari il primo assalitore riesce a mangiare il figlio ma l'obiettivo della pianta è estinguere la specie predatoria che gli rompe le palle a lei e ci arriverà perché così è perché le fitotossine sono talmente potenti che estinguono i loro predatori cioè magari non estingue il singolo non riesce a uccidere il singolo predatore del figlio e a differenza di un erbivolo che magari può andare di culo un cavallo può dare una zoccolata a un carnivoro e può centrarlo in faccia e ferirlo e rilibrarsene certo una pianta non può farlo una pianta no che fa può fare solo una guerra chimica quella che Delia essendo chimico conosceva benissimo ricordiamoci sempre il suo nome Armando Delia perché ricordo spesso Delia perché poi è uscito online un testo che si chiama specie umana progetto 3M il quale se voi lo andate a leggere è ultra scientifico va oltre Delia e siccome gli autori l'autore si presumono sconosciuti perché è firmato da John Smith ma John Smith è un nome chiaramente di fantasia perché è il nome più usato in America John Smith è il cognito usato tant'è che tutti tutti gli agenti eseguiti esatto presupponiamo che siano stati degli allievi dei docenti universitari allievi di Delia ricordate che dicevamo che mezza comunità scientifica di Roma è passata dai giovedì culturali di Delia lo stesso Armando Veronesi che tra l'altro Veronesi ogni volta che lo chiamavano in tv in quegli anni lui si portava a Delia o cercava di portarlo tant'è che ci sono trasmissioni non so se da Costanzo Show o da qualche altra parte che i veronesi portava a Delia certo e purtroppo i filmati non li abbiamo trovati però li stiamo cercando alla ricerca senti senti quindi ecco una cosa che aspetta mi è arrivato un uccellino che mi ha detto che tu praticamente quando vai al bar fondamentalmente chiedi acqua del rubinetto poi in realtà l'analizzi corretto no in realtà in fase brutteriana non bevo quindi non dovrei chiedere acqua però in realtà in fase vegana l'acqua perché uno beve l'acqua perché il corpo non vuole le tossine nella cellula vicino al nucleo quindi vuole che le tossine stiano all'esterno della cellula comunque al confine della cellula che fa beve l'acqua per ingrossare le cellule così che la tossina sta molto lontano dal nucleo perché il nucleo è delicatissimo non è un caso che i culturisti che sono i più grandi mangiatori di tossine al mondo perché arrivano non so se a mangiare 10.000 calorie o tra l'altro poi analizzeremo che cosa è la caloria che è un un conteggio anticientifico perché la caloria è il passaggio da 30 a 31 gradi in una stufa e invece dovrebbero calcolare quante attipiti da un cibo e non quante calorie che è complicatissimo i loro calcoli sono complicatissimi non sembrano scientifici un culturista mangiando 10.000 o 12.000 calorie sembra che vada a bedersi litri di acqua ma mi hanno detto 5 anche 10 litri di acqua questo vuol dire che il suo corpo è talmente intossicato che ha sete ogni secondo perché deve allargarsi queste cellule tanto è vero che quelli che fanno i culturisti si dividono in due quelli che fanno massa e quelli che fanno definizione quelli che fanno definizione devono stare 24 ore senza bere perché devono arrivare con tutti i muscoli iperdefiniti e quindi come possono fare solo non bevendo perché tutta quella loro grossezza nei culturisti è metà e lavoro perché è vero se lavori in grossi l'altra metà è acqua tant'è vero che qualsiasi gorilla con un dito potrebbe farebbe scappare via qualsiasi culturista perché non ha la vera forza che è un gorilla che invece mangiano solo frutta e tutti i giorni aggrappandosi dagli alberi ha queste spalle assolontiche queste braccia cioè pazzesche a livello di forza però ricordiamoci pacifiche perché non ha le catecolamine mangiando frutta e quindi per dire cosa questo che l'acqua magari al ristorante qualche volta avendo le cartine dietro come si dice ho dimostrato che l'acqua potrebbe essere acida quella che tu bevi al ristorante anche se in Italia è uno dei pochi paesi del mondo dove c'è scritto il pH di tutte le acque almeno il pH alla fonte quindi alcune acque ti arrivano già con scritto sulla bottiglia pH 5 6 6 e mezzo ricordiamoci che il pH neutro è 7 ma il fisioneutro cioè il pH dell'uomo è 7,4 però l'acqua è acidificante anche con un pH 8 sembra che ti alcanizzi solo con un pH 9 infatti esistono delle macchinette piuttosto costose che col pH 9 vedi che il tuo risultato metabolico è alcanizzante quindi sì se nei vegani o nei fruttariani che dovessero esagerare con sale allora lì si subentra ancora il fatto che devi bere certo perché sale è comunque una tossina è una roccia allora io sapevo in realtà che praticamente la differenza di utilizzare questo tipo di dieta è dato anche dal fatto uno dei vantaggi è che in realtà facendo una dieta differenziata quindi onnivora insomma chiamiamola così onnariana onnariana diciamo e fondamentalmente devi introdurre cioè introduci un numero di calorie che più o meno viene stabilito per gli uomini circa 2000 al giorno e per le donne circa 1500 e mentre facendo una dieta totalmente fruttariana ne devi introdurre molte di meno e allora in teoria sì ma puoi anche arrivare alle 2000 a 2005 anche con la frutta perché se fai questa se fai a media la mattina la frutta dolce a pranzo per questa cena abbondante sequenziale che ricordiamoci nel fruttarismo la cena sequenziale è iniziare col melone quindi con la frutta dolce poi la frutta ortaggio e la frutta grassa crude poi la frutta ortaggio e la frutta grassa magari cotti al vapore no? perché non è che devi essere crudista se fai fruttariano tant'è vero che poi alla fine puoi metterci la pizza fruttariana che cos'è la pizza fruttariana? mi chiederai tu sì esiste? l'hai mai vista? tu mi sa che l'hai vista solo in foto l'hai vista festella ah l'hai vista l'hai vista l'hai vista ti ricordiamo che appunto la carpotecnia è tutta una serie di ricette che riproducono fedelmente tutte le ricette esistenti c'è la carne fruttariana no? che è fatta col platano polpette di platano siamo riusciti a simulare anche il McDonald's il McFruit se voi cercate il McFruit c'è anche l'hamburger fruttariano esatto esatto perché sono praticamente frutta ortaggio frullata poi c'è lo stampino fai la forma la forma col platano grazie al platano siamo riusciti a fare tutte quelle ricette tipo pizza o crepe addirittura a Milano possiamo dire c'è Vielle Vielle di Dallabruzzi che ti fa la crepe fruttariana 100% fruttariana perché lui era incredulo all'inizio mi state dicendo che io con questa farina di platano posso fare una crepe la messa sulla sua abbaricciatura essendo uno dei più famosi crepe di Milano c'è una prescrizione all'avanguardia solo l'acqua e farina gli è venuta mentre dice ok ok io nell'altra l'altra c'è le uova c'è nel latte certo e tu ti fai la crepe leggerissima te le puoi mangiare anche 3, 4, 9 centi come quella di grano ricordiamoci cibo per gallina il grano cibo per granivori e tutto questo era per dire che possiamo fare anche gli spaghetti gli spaghetti di cetriolo tipo di cetriolo andeti fatti a spaghetto così possono fare delle salse pazzesche con l'avocado la pomodoro secco tutte queste cose qua fanno sì che anche visivamente si riproduce le stesse ricette a cui siamo abituati solo che da un punto di vista salutistico non c'è paragone cioè mangiare un McFruit cioè l'hamburger frutturiano rispetto a quello del McDonald's ci corrono abisso tra l'altro qua lì c'è solo il nome mi pare che c'è la mela dentro ma così solo di facciata tra l'altro a livello politico Delia è considerato il più grande rivoluzionario politico perché lui faceva queste cose non solo per un livello salutistico ma proprio perché politicamente ripulendo i neuroni della gente la politica sia in senso lato che in senso stretto ne esce migliore l'impatto ambientale siamo cazzo in una radio ambientalista nel Movimento 5 Stelle dovrebbe essere ambientalista in Tukur non solamente così ogni tanto per qualche piccola battaglia l'impatto ambientale il 90% dell'impatto ambientale è l'alimentazione cioè mangiando carne stiamo rubando il terreno a dei genitori africani che per disperazione abbandonano il terreno lasceranno i bimbi orfani perché è così funziona così perché la quantità di acqua l'impronta ecologica dei cibi vede la carne in cima e indovina cosa vede qual è il minimo la minima impronta ecologica di quale categoria di cibi la minima impronta ecologica si se la carne è il massimo di impronta ecologica il proprio devasto del pianeta la frutta in particolare la mela tant'è vero che si fanno delle statistiche che una famiglia un'ariana cioè che mangia tutto avrebbe bisogno di un campo di calcio per sostentarsi una famiglia vegetariana di mezzo campo di calcio una famiglia vegana dell'area di rigore una famiglia fruttariana della linea di porta dimmi tu se l'impatto ambientale non è diverso chiaramente Cristina non si è riuscita a convincerla che dice Cristina quello che scrivo è tutto basato chiaramente ci ha messo dei post che riguardano le proteine che riguardano le proteine animali quello che scrivo è tutto basato su conoscenze scientifiche ormai accertate da tempo e fin tanto che non ci saranno prove scientifiche che spazzano via quelle già accertate occorre rifarsi a queste sì sono le stesse cose che dice il più famoso di un'autorizionista che va in tv Calabresi che è interrogato dalle Iene perché tra l'altro adesso alcuni programmi importanti cominciano a frontare l'argomento c'è il caso di Massimiliano Diaco il cui padre Antonio Diaco è guarito da un tumore al cervello ricordiamoci che il 90% delle malattie i medici dicono è ziologia sconosciuta cioè vuol dire non so non so la causa è un modo per dire che non so magari è un loro mantra quindi cosa vuol dire le stesse cose dice Calabresi quando dice che è intervistato dalle Iene gli chiedono ma lo sai che ci sono guarigioni cambiando alimentazione si guarisce da malattie inguaribili come il tumore e altre malattie e Calabresi dice ma sì ho sentito però io finché la letteratura prevalente è quell'altra seguo quell'altra quando questa letteratura diventerà prevalente seguirò questa cioè capito sembra di allora sembra di stare nell'ambito della letteratura della poesia della prosa cioè finché è prevalente che ne so la lingua do il io parlerò la lingua do il ma cosa vuol dire cioè Calabresi dovrebbe fare lo scienziato e verificare sul campo e vedere le cose sul campo perché detta così cosa vuol dire che lui si fida delle prove di laboratorio fatte sui topi pensa di essere un topo cioè perché non va a vedere Antonio Diaco perché è guarito da un tubo al cervello ma mica è solo questo l'unico caso abbiamo decine decine di casi di diverse malattie inguaribili casi di guarigione di artrite di artrosi tutte medicine tutte patologie che la medicina dichiara inguaribili e poi il fatto delle proteine nel corpo devono entrare gli amminoacidi la frutta tutti gli amminoacidi le zucchine siccate hanno più amminoacidi della carne quindi di cosa stiamo parlando certo per non parlare dell'impatto dal punto di vista ambientale di quelli che sono oggi gli allevamenti e tu mi devi dare una mano su questo assolutamente mi devi dare una mano perché il momento 5 stella ancora non è sensibilizzato all'impatto ambientale della zootecnia zoo vuol dire animali poi soprattutto quanto gli allevamenti intensivi zootecnici in realtà dal punto di vista ambientale quindi solo su quello che è il metano generato fondamentalmente è assolutamente incredibile il quantitativo senza pensare a come vengono trattati questi animali insomma quindi ragazzi i video piuttosto che chiaramente ognuno può avere le proprie convinzioni dal punto di vista alimentare però vi prego andate a cercarvi quelli che sono i video sugli allevamenti intensivi e sui macelli degli animali insomma come vengono utilizzati come vengono allevati e il pollo che noi mangiamo che quasi tutti gli italiani mangiano molto spesso ormai visto il costo della carne di bovino e come vengono allevati soprattutto negli Stati Uniti ragazzi guardatevi questi video li prego guarda sono cose che girano su Youtube pulcini messi vivi nel tritacarne ragazzi è una roba incredibile incredibile le urla dei maiali del macello poi sono qualcosa di disumano assolutamente tra l'altro io penso mi consideravo animalista da quando ero ragazzo magari non ero un attivista politico però mi consideravo animalista e in qualche modo cercavo di dare il mio contributo e poi mi sono reso conto che come cazzo facevo essere animalista mangiando la carne io pensavo di doverla mangiare perché alla fine poi ho verificato è solo un passaparola però un passaparola prevalente e pensavo avessero le prove di questi medici questi nutrizionisti tant'è vero che poi tu gli chiedi dimostramelo cioè questi dammi la bibliografia dammi un libro non ce l'hanno non ce l'hanno certo sta di fatto che mi consideravo animalista e però vivevo sentivo dentro di me una contraddizione nel non essere almeno vegetariano non dico vegano e poi a quel punto quando diventi vegetariano poi studi bene vedi che il latte vuol dire che è rubato ai figli della mucca che vengono poi uccisi e che non hanno il loro cibo fin dalla nascita e la mucca è messa in cinta con tutti i metodi artificiali delle cose vanno a partire ma poi c'è anche quel video di quel vitello che viene portato via dalla madre e la madre che insegue la macchina che sta portando via il vitello appena nato ragazzi è una roba perché la madre deve produrre latte quindi non può curare il suo piccolo è incredibile è una roba assolutamente assurda e poi abbiamo molti che adorano i cani e i gatti e allora ok e la mucca no cioè se hai sensibilità verso un mammifero o verso qualcuno che ha degli occhi e dovessi averla per tutti o cercare la giustificazione questi animali fondamentalmente nascono per servire da cibo questa è roba da medioevo robe medievali sono d'accordo con te senti comunque io tolsi tolsi la carne quando vedi nel 2000 negli anni metà del 2000 vedi questi famosi video che già giravano su youtube certo e lì dissi cazzo no ma come faccio ad essere un animalista e avallare questa cosa e lì comincio a togliere la carne ok quindi praticamente da quello che ho capito sono circa 5 anni che fai questo tipo di dieta beh dunque sì 2008 ah 2008 approccio teorico no 2008 approccio teorico poi il primo approccio diciamo migliorativo 2009 mi conto però ero già vegetariano dal 2007 circa 7 8 adesso non ricordo sono diventato poi vegano al 100% nel 2011 e poi ho fatto i famosi periodi di futurismo crescente e di veganismo migliorativo ecco la domanda delle domande dal punto di vista sanitario sì cioè ah beh cavoli io non avevo patologie particolari per dover interpendere questo percorso certo certo perché comunque era una spinta etica e animalista iniziale poi quando ho approfondito visto che esisteva futurismo che aveva le basi scientifiche dicono ma è che sono scemo continuo a mangiare i semi infatti si dice come è che ti dice sei scemo mangi sassi perché mi dice sei scemo mangi sassi adesso siamo un orario in cui possiamo anche diciamo no ecco volevo sapere volevo sapere in realtà dal punto di vista proprio delle analisi cioè se tu fai delle analisi dunque io l'ho fatta una volta no una volta sola l'ho fatta perché tanto non ci credo molto azionali perché ogni minuto cambia il sangue ogni minuto cambia l'urina io mi misuro l'urina non è che è la cosa che posso verificare immediatamente l'analisi non è che posso andare tutti i giorni e tutte le ore a farmi analisi nel sangue comunque per scrupolo per curiosità l'ho fatta una volta nell'ambito del progetto che si chiama Atena nell'ospedale San Paolo di Milano che prevedeva monitoraggio di vegetali e di vegani io andrei là mi pare che ero in fase fruttariana e glielo dissi e loro non mi sembravano così stupiti questi dicono ma che frutta che dicono invece sapevano in letteratura che esistevano dei casi perché non sanno che c'è tutto un mondo a macchie di lopardo che si riunisce anche su facebook in gruppi facebook comunque su youtube ci sono diverse conferenze che fanno vedere che c'è parecchio interesse e quindi feci le analisi là con il progetto Atena e non mi ricordo i dettagli ma risultavano buone nella media buone insomma sì guarda ti dico io ho ho iniziato da circa un anno e mezzo a fare chiaramente non seguo perissequamente insomma quello che è il meccanismo MDA insomma però la mella mattina appena tre io ce l'hai? assolutamente sì e prima di andare a dormire? no quello no ma perché in realtà avevo fatto una chiacchierata con Andrea Conti sì e insomma che ci aveva dato delle indicazioni di massima che fondamentalmente era mele rosse al mattino fondamentalmente fino alle al primo pomeriggio insomma le 15 le 16 quando si aveva fatto chiaramente i quantitativi sono a sazietà a sazietà certo e poi al pomeriggio ci aveva indicato la frutta dolce con la base melone mi raccomando la base deve essere sempre melone base melone dei tre frutti base melone e poi la frutta acida sì quella totalmente e poi invece la sera tutto quello che era frutta grassa frutta ortaggio e la frutta secca fondamentalmente poca ma no la frutta secca cosa intende? meraviglia no perché c'è un errore come dire di definizione perché per frutta secca purtroppo vengono considerati i semi in realtà la frutta secca e la frutta dolce essiccata o la frutta ortaggio essiccata quindi i semi non sono frutti e quelli non c'entrano niente col termine la frutta secca la frutta essiccata dolce sto parlando di mandorle arachidi queste qua ah quelli sono semi quelli in fase vegana in fase vegana ti devi mettere dopo che hai mangiato melone la frutta ortaggio l'avocado la frutta ortaggio cotta e poi metti il seme a quel punto i semi vanno anche in ordine di pericolosità cioè se devi mangiare più semi sono tre le categorie dei semi i semi sono quelli ricchi di carboidrati cioè cereali quelli ricchi di proteine cioè leguminosi leguminaci e quelli ricchi di grasso cioè semi oleosi quindi considerando sempre come nemico numero uno dell'uomo l'eccesso di proteine i semi proteici vanno per ultimi se devi mangiare più semi comincia con i semi con i cereali cereali che purtroppo però quasi tutti hanno glutine che questa proteina che rompe le palle ha anche un sistema nervoso quindi preferibile senza glutine cioè tipo il mais uno seraceno il riso certo perché la dipendenza che crea il grano è è una qualcosa il cosiddetto amido cotto cioè il grano è un qualcosa di inenarrabile neanche l'eroina neanche l'eroina senti Max per chiudere questa meravigliosa chiacchierata poi chiaramente ripeto ognuno ti faccio una domanda perché molti dei miei amici mi hanno detto senti ma se non riusciamo a vedere in diretta c'è la registrata? assolutamente sì guarda tra diciamo nell'ambito del weekend nella sezione podcast del sito troverete la puntata intera quindi allora magari mi mandi il link in portafailbook assolutamente sì poi se vuoi ti mando anche solo l'estratto dell'intervista perché poi adesso noi partiamo con il seguito della puntata quindi in realtà ah vabbè ma tanto il seguito il seguito cos'era capire come andava c'era qualcuno in diretta in qualche trasmissione sì esatto e adesso andiamo magari se ci riusciamo so che è già partita la diretta con Carla Ruocco a Bersaglio Mobile però cerchiamo a Bersaglio Mobile io ho avuto una notizia che non so se l'ho avuta in anteprima che dalla gabbia ci sarà finalmente un parlamentare 5 Stelle non so se in collegamento però è domenica potrebbe essere lì mi pare sia l'Alezzi tanto sai che io ogni tanto vado alla gabbia no lì che sono venuti a Milano anzi dovresti venire anche tu ogni tanto anzi domenica questa cavoli sarebbe ideale eh sarebbe bello se non dovessi lavorare sarebbe bellissimo perché questo weekend tra parentesi questo è il prossimo mi hanno inchiodato al lavoro senti Max da quanto tempo sei attivista del Movimento 5 Stelle ah bella domanda tanto io non so se tu sai la vera risposta perché sono un attivista più storico di Roberto Fico comunque come data d'ingresso eh simile a Roberto Fico che tu sai essere stato il primo attivista Napoli certamente sì me lo ricordo il meetup di Milano fu creato da da Beninzi che era un dipendente casaleggio a metà duemila e cinque però i primi i primi milioni furono verso mi pare agosto settembre bene io ho cominciato a partecipare a settembre duemila e cinque sono stato parecchio attivo attivissimo proprio in tutto duemila e sei e duemila e sette poi ho avuto un po' un calo perché mi sono messo a approfondire tutte tematiche che non riuscivo a condividere il monito 5 stelle quindi la sua unità monetaria signoraggio inizialmente anche il bilancio partecipativo non era molto approfondito e poi sono stato assorbito completamente anche se comunque random tipo una volta ogni due o tre mesi frequentavo sempre monitorato un po' la situazione di Milano e ultimamente ancora più spesso perché poi sono stato assorbito totalmente dalla scienza da alimentazione nutrizione e quindi mi sono fatto tutto questo carico questo bagaglio di informazioni che adesso voglio riscaricare nuovamente nel movimento chiaro è chiaro comunque ogni tanto partecipo al gruppo eventi a Milano Festello da Toramano insomma ci sono non sono più quello del 2006 nel 2007 che ero forse uno dei più conosciuti in Italia però all'epoca eravamo talmente di nicchia che solamente fra di noi ci conoscevamo non c'era certo panorama che veniva a scandagliare quello che era l'attivismo 5 Stelle e comunque tanto è vero che quando mi vede Fico mi fa tu eri il ministro degli esseri dell'epoca dei meetup perché frequentavo non solo Milano e provincia ma quando c'erano occasioni importanti andavo fino anche a Napoli tanto è vero che conoscevo tutti gli attivisti dell'epoca poi è stato un notevole ricambio devo dire la verità sono pochissimi quelli della prima ora tipo Fico tipo in Parlamento ce ne sono pochissimi cioè Fico e in questo momento non mi viene in mente nessun altro certo ti parlo del 2005 ci ricordiamo insomma che i primi banchetti quando insomma eravamo alla ricerca di un di uno striminzito 3% per mettere un candidato all'interno della regione insomma ai tempi insomma anche i tempi degli esordi del teatro Smeraldo grandi insomma è passata di acqua sotto i ponti assolutamente mi ricordo che c'era Celentano e Milano mi ricordo di via di Libos dell'Evocati Diretta a Celentano assolutamente sì senti Max io ti ringrazio per questa chiacchierata che ci siamo fatti oltretutto un'ora e mezza di collegamento ah dai anzi sì diciamo quasi un'ora e mezza un po' un po' di più di un'ora e mezza bellissimo bene quindi poi ci sarà lì senti l'ultima cosa che ti chiedo chiunque volesse interessarsi a questi argomenti anche giusto per controbalanciare insomma le varie teorie scientifiche che ci sono in giro sui vari tipi di dieta invece abbiamo dei gruppi facebook in cui il principale si chiama fruttarismo si chiama fruttarismo sostenibile trattino 3m se qualcuno vuole venire lì a dare contributi anche contrari sempre in maniera educata e con motivazioni scientifiche perché non tolleriamo certo lo spam se non è scientifico va bene anche lo spam ma che sia scientifico per scientifico intendo al massimo livello ho letto che è limone alcalinizzante cioè quei commenti non sono non danno un contributo allora quindi ripeti il nome del sito fruttarismo sostenibile allora il gruppo c'è il gruppo facebook fruttarismo sostenibile trattino 3m poi c'è la pagina facebook soprattutto anche per le ricette cosmo fruttarismo 3m e lì pubblichiamo spesso anche le ricette poi c'è un gruppo facebook specifico per le ricette fantastico su youtube basta scrivere fruttarismo 3m o nutrizione media trovano le conferenze fatte da non solo da me anche da altri queste due sono le cose principali insomma allora benissimo benissimo max io ti ringrazio tantissimo di questa chiacchierata veramente le opinioni sono assolutamente variegate in chat insomma c'è chi sostiene quindi adesso posso andarmi a vedere i link che hanno messo se vai su moviradio.it direi che ti puoi leggere ce l'ho accesa con il volume bassissimo assolutamente sì insomma quindi posso andare a fare il volume certo c'è chi apprezza di più insomma un'alimentazione più vegana insomma più variegata dal punto di vista delle verdure sì sì ma ricordiamoci che la MDA prevede tutta la variegazione che vuoi però a cena nella fase che non ho sentito prima di dire che è trofica quella di assorbimento dei nutrienti mentre quella della mattina è catabolica l'ultimissima cosa che ti dico quella di mezzo è anabolica certo è la fase di mezzo fra le due fantastico grazie Max ok grazie a te metto giù io metto giù certo ok ciao grazie buona serata ciao grazie a te ciao grazie grazie a te